Un'estate da grandi numeri per Pescara, parliamo di turismo, alberghi pieni, locali pieni. Va bene l'estate, avete scritto in un documento, ma ora bisogna programmare la stagione invernale, quella autunnale, i prossimi mesi. Chiedete un tavolo permanente. È stata un'estate importante, iniziata con difficoltà, ma ha evidenziato una volta per tutte la vocazione di questa città. Una città accogliente, vitale e dinamica. Questo non può che far scaturire un'idea di città. L'idea di città che noi abbiamo sempre sostenuto è una città turistica, polo d'attrazione di tutto l'Abruzzo. Questa città però ha un'esigenza adesso. Deve vivere 365 giorni all'anno con un turismo, come abbiamo sostenuto, destagionalizzato. Puntando per esempio sulla congressistica, sui convegni, turismo culturale, turismo ambientale. Noi per far questo abbiamo chiesto, in realtà lo stiamo chiedendo da tanti anni, dalla precedente amministrazione, un tavolo permanente, fabbrica delle idee a cui dovrebbero partecipare tutti gli attori. Non soltanto le associazioni di categoria ma anche i trasporti, penso all'aeroporto, al porto, alle ferrovie, le istituzioni culturali, le associazioni e ovviamente con la regia dell'amministrazione. Credo che sia arrivato il momento di un patto, un patto tra la città e gli esercenti e gli abitanti. Col turismo noi possiamo farcela. Farcela ma da qualche mese siete costretti a convivere con una nuova problematica, quella delle bollette. Questo è un problema in più per le aziende? Questo è un problema gravissimo. Noi ci siamo mossi sia a livello nazionale, a livello locale e abbiamo aderito a un consorzio per attutire l'impatto dell'energia e in questa fase noi possiamo soltanto, ecco, attraverso il consorzio dare una mano alle imprese e cercare di far aumentare le entrate per attenuarlo. Ma è un problema ovviamente che va risolto anche in modo drastico a livello nazionale, secondo noi. Bisogna intervire subitissimo, ma noi lo stiamo facendo e chiedendo da mesi.